Un buon pomeriggio dalla redazione di E-Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che purtroppo apriamo anche quest'oggi proprio come ieri con una notizia di cronaca con un ennesimo incidente stradale mortale sulle strade di Brescia questa volta in autostrada per la precisione sulla 21, maggiori dettagli nel prossimo servizio Non erano nemmeno passate 24 ore dalla caduta di Concesio che è costata la vita a Roberto Spagnoli che le strade bresciane si sono ancora macchiate di sangue questa volta teatro del tragico incidente è stata l'autostrada 21 nel tratto compreso fra Manervio e Ponte Vico in direzione Cremona tre i mezzi coinvolti nella carambola, un'autovettura e due mezzi pesanti erano circa le 4 di notte e sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco di Brescia quattro ambulanze e un'automedica i soccorsi erano stati allertati in codice giallo ma purtroppo una delle quattro persone ferite non ce l'ha fatta non sarebbero invece in gravi condizioni gli altri tre feriti uno di loro è stato ricoverato in codice giallo al civile gli altri in codice verde al civile e in poliambulanza come da prassi è intervenuta anche la polizia stradale di Montichiari che ha effettuato i rilievi e ora dovrà cercare di ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale avvenuto in queste settimane sul territorio bresciano torniamo ora ad occuparci della barbara uccisione del volontario bresciano Michele Colosio in Messico avvenuta nella serata di domenica emergono piano piano diversi dettagli, diversi particolari anche su quella che è la situazione della violenza nel paese in cui Miguel, così era chiamato, viveva ormai da più di dieci anni sentiamo, cerchiamo di capire qualcosa di più nel prossimo servizio anche grazie a quelle che sono le informazioni di un giornale locale il Corelo Informa Ad annunciarlo è il Corato Informa una manifestazione in ricordo di Michele e Miguel Colosio e per dire basta alla violenza l'appuntamento è per martedì sera alle 19.30 con l'invito di portare anche una candela e un fiore per commemorare l'amico Miguel il suo sorriso conosciuto e grande si è spento lo hanno ucciso in un assalto a un isolato da casa sua tornando dai festeggiamenti per la finale dell'europeo hanno scritto alcuni amici aggiungendo che era così felice per la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra che è valsa il titolo agli azzurri artigiano, viaggiatore, pastore, contadino, sellaio, meccanico di biciclette è tutto quello che gli veniva in mente di imparare così lo descrive il giornale messicano che poi parla anche del suo impegno sociale catalizzato dagli studi e dall'esperienza al civile come tecnico radiologo il suo cuore e le sue conoscenze lo hanno avvicinato alla nostra casa di salute comunitaria scrivono in Messico di Miguel così come a molti altri progetti sociali convinto come era lui che bisognava dare bisognava aiutare bisognava fare popolo nella fratellanza senza distinzione di lingue, confini e colore della pelle il giornale messicano riporta anche alcuni dettagli sul momento della morte del Bresciano dicendo che questo agguato è solo uno dei tanti che ogni giorno avvengono nel Pueblo Magico di San Cristobal secondo gli amici di Michele nelle parole riportate da Il Correto Informa si tratta di una città già alla mercè di tanti gruppi armati criminalità comune, crimine organizzato e narcos che agiscono grazie all'occhio cieco di tutti i governi e alla corruzione e allora sempre grazie al Colleto Informa questo giornale locale di quella località insomma del Messico vediamo insieme quelle che sono le immagini della manifestazione veglia tenutasi nella serata di ieri nella notte italiana e sentiamo anche il grido forte e potente che si è alzato dalla piazza per chiedere giustizia per l'amico Miguel Justizia per Miguel Colosio Justizia! Justizia per Miguel Colosio Justizia! Justizia per Miguel Colosio Justizia! 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 Queste sono le immagini pubblicate da Il Coleto Informa della veglia presidio organizzata nella serata di ieri a San Cristobal in Messico, dove domenica è stato ucciso a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio. In tanti si sono voluti ritrovare in piazza con una candela, una bicicletta o un fiore, in memoria dell'amico Miguel, ma non soltanto. Gli amici di Michele hanno anche infatti gridato un forte no alla violenza, che stando a quanto dichiarato dal giornale locale sta dilagando a San Cristobal. Numerose le testimonianze e le manifestazioni d'affetto per una persona che negli ultimi dieci anni era riuscita a diventare parte integrante del tessuto sociale del paese grazie al suo lavoro e grazie al suo impegno di volontariato. Al termine della veglia una bicicletta bianca con la bandiera tricolore è stata posta al di sopra di un'abitazione, un altare che rimarrà lì dove Michele è stato barbaramente ucciso in suo eterno ricordo. Grazie a tutti. A Brescia, come vi leggiamo, i nuovi casi sono 12. Approfondiamo un po' la questione anche con l'infografica consueta di Regione Lombardia. Vediamo che i tamponi processati sono 29.313, quindi tornano ad alzarsi dopo il bollettino del lunedì. 241 i nuovi contagi, l'abbiamo detto, tasso di positività allo 0,8%. A livello provinciale, il primo posto per nuovi contagi c'è Milano che sfiora. I 100 nuovi casi sono 98 per la precisione. Brescia abbiamo detto 12 e più di Brescia fanno ad esempio Varese con 14, Monza e Brianza con 24, Mantua con 15, Lodi sempre con 14 e Como con 15. Per quanto riguarda i decessi, purtroppo ne sono due le segnalazioni nell'ultima giornata in Lombardia per decessi attribuibili al Covid. Infine il capitolo dei ricoveri, meno uno nelle terapie intensive, quindi un posto in letto in meno occupato nelle terapie intensive lombarde, mentre purtroppo per il secondo giorno consecutivo troviamo ancora un segno più nei ricoveri convenzionali, più 331 attualmente, i ricoveri totali in Regione Lombardia per quanto riguarda i sintomi legati al Covid-19. Proseguiamo parlando della campagna vaccinale perché ieri Regione Lombardia, o meglio la direzione al welfare di Regione Lombardia, ha annunciato nuovi arrivi di vaccini Pfizer e Moderna e quindi conseguentemente anche l'apertura di nuove slot per vaccinare gli under 60. A seguito della fattiva collaborazione con la struttura commissariale del generale Figliuolo, per il periodo 11-30 luglio sono state garantite a Regione Lombardia circa altre 105.000 dosi di Pfizer e Moderna. Si aggiungono agli arrivi annunciati ieri che sono pari a 1.276.310 dosi entro fine luglio e 2.332.500 dosi nel periodo fra il 14 luglio e il 14 agosto. Questa la nota di aggiornamento della direzione al welfare di Regione Lombardia, una sorta di punto in cui viene comunicata la situazione dei vaccini sul territorio regionale con gli arrivi di queste settimane. Questa situazione, prosegue la direzione generale, consente l'avvio di nuove strategie per aumentare l'adesione alla vaccinazione, che oggi ha toccato 10.330.591 somministrazioni totali, con una adesione rispettivamente del 76% della popolazione vaccinabile e del 74% con almeno la prima dose. Questo significa l'apertura di nuovi slot in tutti gli hub lombardi, tanto per la fascia dei 20 ai 59 anni, quanto per quella dei 12 ai 19 nell'ambito del progetto rientro a scuola in sicurezza. Per i 5.934.816 under 60, dei quali 4.205.033 hanno già aderito alla campagna vaccinale, è prevista l'apertura immediata di nuovi slot in tutti gli hub vaccinali per prenotare la prima dose, in conformità con le linee guida sull'utilizzo di Moderna, vaccino somministrabile dai 18 anni in su. I numeri della campagna vaccinale per quanto riguarda i lavoratori procede a rilento, almeno questo è il grido di allarme lanciato dalla Cisle di Brescia. Ci sono ancora troppi lavoratori senza vaccinazione anti-covid, in termini generali l'andamento della campagna vaccinale nel Bresciano con quasi il 76% della popolazione che ha già ricevuto una prima dose e oltre la metà di questa, anche la seconda, è assai positivo. Ma l'analisi dei dati sulla fascia d'età tra i 20 e i 60 anni mostra che le imprese, con la sola eccezione di api industria, non hanno ancora saputo tradurre in concreto l'impegno più volte dichiarato per la vaccinazione dei lavoratori. Il segretario provinciale della Cisle, Alberto Pluda, fotografa così una situazione che da oltre un mese segna il passo. Su una platea di 432.000 lavoratori tra i 20 e 60 anni ce ne sono ancora 139.040 in attesa della prima dose di vaccino, 294.466 in attesa della seconda. Ha incalzato anche Paolo Reboni che per la Cisle ha seguito la lunga fase di elaborazione d'intesa raggiunta in prefettura. Guardiamo tutti con una certa preoccupazione che la ripresa dei contagi in Europa è a qualche segnale non certo rassicurante. Anche in casa nostra ha chiusato Reboni. La necessità è l'accelerazione dei piani vaccinali per i lavoratori. Non si esclude infatti l'ipotesi di un'eventuale organizzazione a livello territoriale per la terza dose di vaccino che potrebbe rendersi necessaria di fronte alle varianti del virus. Torniamo ora a occuparci del maltempo che forte nel pomeriggio di ieri ha colpito buona parte della nostra provincia. Danni maggiori si sono registrati sul lago di Garda. Questa foto è stata inviata da un ascoltatore della bassa bresciana per la precisione nella zona fra Montichiari e Carpenedolo dove si è abbattuta una tempesta con grandine di dimensioni non indifferenti sebbene inferiori a quelle della scorsa settimana. Il mattempo però si è affacciato su gran parte della provincia a macchia di leopardo con un forte vento e pioggia a non finire. In particolare è stata colpita maggiormente la zona del basso lago di Garda dove sono stati necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Per un bilancio esaustivo bisognerà attendere ma dal comando riferiscono di diverse operazioni da Desenzano a Toscolano Maderno toccando vari comuni della riviera fra cui Salò, Soiano e Padenghe. Dopo la sferzata di maltempo sono stati circa una cinquantina gli scenari di intervento fra il territorio di Castiglione delle Stiviere e il lago fra infiltrazioni d'acqua, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, persone bloccate in auto e danni d'acqua in genere. Fra l'altro l'allerta meteo è stata rinnovata anche per la giornata di oggi, non arancione ma degradata gialla quindi attenzione anche in queste ore e attenzione anche nelle prossime perché questo maltempo, questa instabilità sembra che non ci abbandonerà anche per i prossimi giorni. I dettagli come sempre con gli amici di Trebimeteo. Dal satellite possiamo osservare come sta sopraggiungendo da ovest un minimo di bassa pressione in quota, responsabile di temporali nelle prossime ore anche di forte intensità al nord e su alcune zone dell'Appennino settentrionale. Attenzione appunto a locali grandinate, colpi di vento in pianura padana per la tanta energia potenziale disponibile. Invece al sud regna ancora indistrubata l'alta pressione con caldo africano, ancora una giornata bollente. Mercoledì ancora instabilità specialmente il pomeriggio, soprattutto sul nord-est, area alpina, appennino centro-settentrionale e contemporanei che localmente si spingeranno fin verso le coste del medio adriatico. Invece per il sud è una giornata tutto sommato abbastanza buona, discreta, ma con l'arrivo del maestrale da ovest al nord-ovest ed un calo delle temperature sia minime che massime. Caldo che si farà via via più sopportabili nei prossimi giorni. Giovedì isolati, occasionali temporali ancora non esclusi al centro nord e soprattutto come target di temporali i rilevi montuosi. Al sud invece ulteriore lieve calo delle temperature anche sul lato ionico. Finalmente vivremo delle giornate di estate ma con caldo ben sopportabile e gradevole. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Parliamo ora di infrastrutture. Realizzare la stazione dell'alta velocità per il Basso Garda è una chiave importante. Questo almeno è quanto ha detto l'assessore regionale ai trasporti e all'infrastrutture Claudia Maria Terzi anche in un'ottica di valorizzazione del turismo sul Garda. La realizzazione della stazione del Basso Garda sulla linea alta velocità alta capacità Brescia Verona è strategico per il territorio. Così ha scritto l'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi in merito alla mozione sulla valorizzazione del bacino gardesiano con la realizzazione di una stazione per la tratta TAV approvata ieri pomeriggio in consiglio regionale. Una missiva inviata all'attenzione del commissario straordinario dell'alta velocità e alta capacità Vincenzo Marcello nel testo si evidenzia inoltre l'importanza della stazione per lo sviluppo turistico e territoriale chiedendo il coinvolgimento di regione Lombardia. L'alta velocità e di competenza statale ha proseguito l'assessore Terzi ma approvare la mozione è stato comunque importante per segnalare una volta di più la volontà del territorio. Del resto anche gli enti locali si sono già pronunciati in questo senso. Formare per assumere il nome e anche un po' l'indirizzo, l'obiettivo del nuovo progetto presentato nelle scorse ore da regione Lombardia. Allora scopriamo i dettagli con l'assessore Rizzoli e con il Presidente Attilio Fontana. Che aiuta a trovare le persone di cui hanno bisogno e che aiuti i lavoratori a farsi una specifica formazione. È chiaro che si mettono insieme due esigenze. Purtroppo, come dicevo prima, è ormai una cosa che viene ripetuta da troppo tempo il fatto che tante aziende non riescano a trovare lavoratori che abbiano le caratteristiche di cui abbisognano e dall'altra parte vediamo che ci possono essere problemi occupazionali. Credo che questa misura serva a dare una risposta alle esigenze delle aziende ma dare anche al lavoratore la possibilità di avere una formazione, una qualifica maggiore e quindi magari anche una crescita professionale all'interno della propria attività. Formare per assumere una nuova misura del lavoro proprio per incentivare la formazione del personale e superare il mismatch, il disallineamento tra domande e offerte di lavoro. Regione Lombardia con il mio assessorato offre fino a 3.000 euro proprio per la formazione di personale specializzato, proprio per superare questo gap e il disallineamento tra domanda e lavoro. Quando le aziende potranno cominciare a chiedere questi aiuti? Dal 26 luglio. Tutte le aziende possono cominciare a chiedere gli aiuti di formare per assumere ma soprattutto possono chiedere anche gli altri bonus occupazionali che sono già attivi che arrivano fino a 8.000 euro al lavoratore proprio per incentivare l'occupazione e poi ci sono dei bonus aggiuntivi che arrivano fino a 1.000 euro, oltre 500 euro per la ricerca del personale da formare. Quindi si arriva ad un budget consistente per ogni lavoratore e questa Regione Lombardia lo fa per aiutare l'occupazione, incentivare l'occupazione soprattutto dopo lo sblocco del divieto di licenziamento e dopo un periodo così duro come è stato quello della pandemia. Prosegue spedito il ritiro del Brescia Calcio in quel di Dalfo Buario Terme dopo la prima amichevole terminata 4-0 contro una rappresentativa locale del gruppo di Filippo Inzaghi, suda e lavora a ritmo di doppie sedute giornaliere. Oggi è il giorno dello sbarco di Jesse Joronen, il portiere finlandese, dovrà far sapere alla società quale sarà il suo futuro. Udinese e Milan sono alla porta. Assenti ancora bisoli e scrub per infortunio, problemi per un doi donna rumma. Anche l'attaccante è al centro di questione legata al mercato. Si profila uno scambio con Gianluca, la padula del Benevento. Intanto ieri sera è andato in scena, dopo cena, il rituale del karaoke. Nuove vecchie conoscenze della rosa di Filippo Inzaghi hanno intonato canzoni accompagnati dalla chitarra di Matteo Lotti, amico di lunga data del tecnico biancoazzurro chiamato da Formentera per dare la carica al gruppo in queste settimane di duro lavoro in ritiro. Inzaghi si è cimentato in volare di Modugno, ci sta nei chance l'orientiamo di Tozzi, atmosfera bellissima accompagnata da sane risate e musica. Un modo anche questo per fare gruppo. E con queste immagini chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Io prima di salutarvi vi ricordo solo che come sempre tutte le altre notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito internet, eccolo qua, livebrescia.tv dove trovate la diretta di e-live in questo piccolo box 24 ore su 24, visibile anche dai vostri telefoni cellulari dove se volete potete anche iscrivere accedendo ai nostri canali Telegram e Livebrescia News e Livebrescia Sport per ricevere così tutte le notizie direttamente sul vostro telefono non appena vengono pubblicate. Io allora vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi, mi invito a rimanere con noi di e-live e a tornare con noi di e-live questa sera alle 19 per una nuova edizione del telegiornale. Nel frattempo un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.